E' stato arrestato ieri al Parco Miralfiore dagli uomini della Mobile di Pesero per reati legati allo spaccio di stupefacenti, ma rimesso in libertà dal giudice dopo il rito per direttissima, celebrato nella mattinata odierna, dopo aver convalidato il suo arresto e averlo condannato ad una pena di un anno di carcere e 2000 euro di multa. A finire nelle maglie della giustizia un nigeriano di 26 anni al quale è stata rigettata la domanda di asilo e quindi irregolare sul territorio italiano. Nulla facente già con precedenti che da circa due mesi era dedito allo spaccio nella zona del Parco. Gli uomini della squadra mobile appostati nei pressi si sono accorti di due tossicodipendenti già noti alle forze dell'ordine avvicinarsi al nigeriano che gli ha andato incontro ma che si è accorto delle forze dell'ordine e quindi ha tentato di darsi alla fuga. Ha fatto poca strada perché gli agenti lo hanno subito bloccato e perquisito trovandogli addosso due dosi di eroina certamente destinata ai due clienti. Gli uomini della questura si sono accorti che ultimamente le operazioni di spaccio per i continui controlli delle forze dell'ordine si sono spostate in tarda serata nei paraggi del Parco nel tentativo di eludere i controlli e pertanto hanno predisposto appositi servizi di appostamento in diverse fasce orarie della giornata cosa che ha portato ieri all'arresto dello spacciatore.